Grazie a tutti. Non ce l'ho fatta, ero logorato. Ci stava, ci stava. Non vedo proprio allora di cominciare le domande e le lezioni. Scusa, ma cos'è questo suono? L'applicazione di VoiceOver. Descrive le immagini e mi legge i testi ed alta voce. Ah, figo. Uh, vedo che hai conosciuto qualcuno, eh? Eh sì, parlo con lei da sei mesi. È una brava persona, credo mi piaccia. Carina? È molto carina. Capelli lunghi, lisci e castani, occhi splendenti e un sorriso che ti uccide. Ma come hai fatto? Sei sempre così impegnata col tuo cellulare, cosa hai? No, è che ho conosciuto un ragazzo su Facebook. Ah, vediamo. Volete vederlo? Sì. Uh, è carino. Ti piace? Beh, non male. E come l'hai conosciuto quindi? Ci stai parlando? Sì, ci sto parlando e mi piace molto, però sta a Napoli. Eh beh, qual è il problema? Ci devo andare. Ti vai a trovare? Direi di sì, subito. Sì, no, credo, credo che lo varò. Sì, no, credo. 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 Oi, Miki, sono appena scesa la fermata e sto camminando verso l'indirizzo che mi hai dato. Sì, no, credo. 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 до Sì, no, credo. Sì, no, credo. Così. 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 Così.